Seguimi, dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo discepolo scelto per pascere le sue pecore. Seguimi, questa parola lapidaria di Cristo può essere considerata la chiave per comprendere il messaggio che viene dalla vita del nostro compianto ed amato Papa Giovanni Paolo II, le cui spoglie deponiamo oggi nella terra come seme di immortalità, il cuore pieno di tristezza, ma anche di gioiosa speranza e di profonda gratitudine.